Ecco IQ6 Sierra Ecco, allora ti passo 59001, 59001, Giuliet Napoli, 75 Bravo America, 75 Bravo America, allora questo è il radio che io sto usando, questo è Adam Pluto, SDR sotto, il PC, IQ6 Sierra Ecco, 9 America 4, Queen Venezia, cambio, cambio. Ok Adam, tutto quanto perfetto, città 029, il DL706, Bravo Aifa, 2-0 tra Radio Aicom e Spurpo, 20 mili latta e l'interno del palazzo, ok, perfetto Adam, Allora, a manuale, switch, Roger, 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 confermo tutto, grazie per i pontini, Q6 Sierra Ecco, 9 America 4, Queen Venezia, ti saluto, ciao, grazie. Roger, 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 allora passiamo a 13 centimetri, fammi solo scrivere. 9 America 4, Queen Venezia, cambio, cambio, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 9 America 4, Queen Venezia, Italia, Quebec 6, Sierra Ecco, 5959, 010, 010, in JN63, Quebec November, è bellissimo il tuo segnale, è bellissimo il tuo segnale, è forte e chiaro, ritorna avanti con le tue condizioni, hai Adam Pluto con 10 mili watt e un'antenina logaritmica da pannello, se non ho capito male. Ritorna pure avanti, Italia, Quebec 6, Sierra Ecco. Lui perché deve scambiare le antenne, non so. Italia, Quebec 6, Sierra Ecco, Italia, Quebec 6, Sierra Ecco, Italia, Quebec 6, Sierra Ecco, ora io ti passo 59001, 59001, 59001, Giulio Napoli, 7, 5, bravo America, 7, 5, bravo America, ora ripeti tutto, ripeti tutti i numerini, ripeti tutti i numerini, cambio, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allora 9, alfa 4, Victor, 9, alfa 4, Queen Victor, ti passo 59001, 0, 5, 4, per te 59002, 002, 002, Giulio Napoli, 7, 5, batteria America, 7, 5, bravo America, over, 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 roger, 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 va bene Adam, facciamo già a 13 centimetri, arrivi così in 13, 13 centimetri, 5, 23, Sirахuri, G 4, Queen d'Aiziertio, Noron Cola 4, Queen d'A בחa.